Io penso che sia inutile prolungare questa agonia ai danni di una città che ferma ormai due mesi quando ormai è chiarissimo che non ci sono più le condizioni per continuare perché come dice lui, dimmi un po' la frase com'è, quella frase che mi dici è stata coperta Certo, cercate di accontentare le richieste dell'uno e poi dopo qualcuno ci sta sempre qualcuno che si la mette, faccia lei però, lei deve considerare che la città, lo sta dimostrando anche Fabio Berardieni andando a curare i pacchi che vengono lasciati veramente, io porto i miei bambini a far copriarmi, mi vergogna inserire, vabbè fate voi, fate pochi, grazie. Grazie Grazie Grazie